E' tornata a riunirsi in regione la cabina di regia Obiettivo Basilicata, presieduta dal vicepresidente della giunta regionale Marcello Pittella. Hanno partecipato sindacati e associazioni datoriali, firmato dalle parti il verbale sulle risorse dei fondi FAS sui quattro settori strategici per lo sviluppo della Basilicata, energia, agroindustria, automotive e turismo. La cabina di regia ha discusso anche dei pagamenti della pubblica amministrazione alle imprese, alla luce del patto di stabilità e delle novità introdotte dal decreto sblocca crediti, tenendo in considerazione anche l'ipotesi di accoglimento delle istanze della regione Basilicata sulla possibilità di utilizzare fuori dai tetti di spesa anche le royalties petrolifere. Per la regione infatti non sono le risorse a preoccupare, bensì i tetti di spesa. Per il 2013 ha disposizione 543 milioni di euro, sui quali la regione ha già provveduto a pagamenti per circa 260 milioni. Nell'attuale quadro di difficoltà finanziarie, ha commentato il vicepresidente Pittella, è errato puntare solo alle economie, perché anche la gestione delle risorse diventa un punto fondamentale per il sostegno dello sviluppo. Grazie per la visione!